Ciao a tutti sono Zopipest e sono convintissimo qui convinto con Zambu, Davis, Francis, bene siamo qui c'è una mappa che non l'ho mai visto ragazzi Convintissimi su una custom map questa volta qui con me c'è Debe che prima non c'era quindi Debe non ha mai fatto una custom map in vita sua penso No no non so neanche cosa cazzo è E' uscito da poco Origins su Xbox 360 tutti stiamo nerdando lì ma io lo stesso vi porto questa custom map perché sono convintissimo Posso dirti una cosa hai failato Origins? No No fra Perché non è ancora uscito Origins coglione Fra rovina l'intera intro cazzo fra questo video esce dopo che sarà uscito ho detto di assecondarvi Ma che me ne frega Fra non hai capito una minca Non hai capito un cazzo ma non importa nei commentissimi iniziamo lo stesso Fra ha svelato tutto il trucco dietro ai video Al massimo taglia Al massimo taglia Un 5 al età Don't press the red button molto bello Cosa cazzo è sto lag? Perché con il senso è un cazzo? No 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 lag è cosa 170 di ping Che cazzo volete oh non rompete i coglioni con la mia condizione oh 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 che basta Ma raga non va il coltello Eh perchè infatti tu mi hai modificati Mi hai appena stato scaricato Ah giusto Ma che cazzo è Ecco taglia anche questo qua perché ci possiamo non dirlo Ragazzi io qua Ho un pulsante rosso No ho un'idea Pensate ragazzi che io potevo uscire con una ragazza e invece sono qua con voi Quanto è triste il mondo Ci fa molto piacere che ci supporti durante questa custom map No Cioè ma qua siamo solo a round 2 è su serio? No perchè mi sembra erano un po' incazzati Un po' tanto Ma aspetta Ma ti ricordi che ogni mod ogni tizio qua è incazzato? Sì sì qua ultimamente con le mod sono convinti a far incazzare gli zombie Eh io e già lo stiamo progettando una custom map diciamolo più o meno Esatto E al 0,1% di lavoro Ma non avevate dire niente voi ma che arlo perché vi continui? Ragazzi guardate qua cosa c'è Oh cazzo ma c'è bo Eh I griffin? I cazzo Voglio essere cazzo 30.000 punti per i griffin E un watch family guide Molto bene arriveremo a 30.000 punti E' convinto Ah qua c'è anche una bomba a muro Col Penso che uccida di Io andrei però sinceramente Io apro Raga io non so più cosa cazzo fare Io apro Cioè sono un po' guerriti questi zombie di merda Io apro Venite 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 Io non so perché andrei a sinistra No ma io andrei dritto Dritto? Debe apri dove vuoi tu dritto a sinistra Debe Dritto a sinistra No io non apro Apri Apri Debe Ok fra dritto a sinistra Scegli tu Dritto a sinistra Oh scelgo qua Speedcola Speedcola Ok Ma porca puttana Corrente 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 Bene corrente Cassa 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 c'è un'attività cazzo di gioco di merda foto 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 udb o non rischia di martin a me riprevo veloce sto leggendo qui oltre il scantico iphone after six seconds cazzo cocazzano non lascio questa no molto bene si è un'attività di 44 voglio dire nelle cartone mc 42 se mara pacca se non è bene 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 la parola che erano 5 attenzione la sombra dei griffin 30.000 pietro scoprirlo prima di arrivare a 30.000 punti e si apre questo cancello qui vabbè è intuibile intuibile istante un istante io andrei anche cercare il gioco da quelle parte cazzo perchè se c'è la spedicola penso che ci sia anche quello io intuisco apro io sopra si pare qua sotto qua sotto ne manca una manca questa porta qui ma non vedo niente di qualcuno che apra sopra perchè ho finito i punti apro una io diamo altre due porte vaffanculo deve aprite me aprite me qualcuno fa che tu da caso a caso spostati aiuto aprite una porta aprite non mi fate passare c'entra la porta devi aprire un'altra non c'è niente aprila aprila oh cazzo quando deve spavano dall'altra aprila deve aprila deve aprila aprita porta di merda ok ok no ce la facciamo sono fortissimo fra vieni tu aprila che hai 2000 vieni tu aprila che hai 2000 basta che la pari arrivo toglietemi toglietemi è un cazzino cazzo non riesco a camminare in questo patto di merda qua 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 dove vuoi a casa scegli tu dove cazzo sta il jugger i bambini di ma cosa sta facendo ma che cazzo è ma che cazzo è ma che stanza è questa che stanza è questa io me ne esco vado a farlo in giardino c'è il paga pancia ho perso dal paga pancia ho perso dal paga pancia c'è il jug 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 ok arriviamo a 2500 c'è il jug bene basta dove il jug finocchi è la sua è qua su la convinzione al massimo merda eccolo qui 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 cazzo jambù ti vedo da sopra guardati ciao papà deve prenderlo appena poi che ok ok dietro non gradite ammo no 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 frate o frate voglio che quanti ce n'erano vai di wounder vai di wounder lagata ma che cazzo mi è stordito anche a me ecco forse ti ho no 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 merda ok ottimo deve deve non venire deve aspetta un attimo deve ok ditemi voi no allora aspetta 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 io ho la wounder aspetta che escano tutti non uccidermi ma non posso muodermi ma non posso muodermi è ford attuore è ford attuore madonna sono tantissimi non lo amo aspetta che dici a zuppare io direi che qui dentro non c'è più nessuno puoi venire jambù arrivo 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 chi sei dei due chi sei dei due io sono il primo il primo che trovi dai no raga sono morto sono praticamente morto muoviti 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 si 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 ti copri io ti copri io non uccidete si ah è l'ultimo scappa via 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 2 4 4 di coppia di coppia di coppia per il quattro amante ma perchè non è interessa persona scomodo domanda stiamo qui deve portare qui qui sotto qui sotto dei tempi che cosa aiutare il suo tempo internazionato soppico sotto il dici a te che sto alla fiera dei nani vai vai io vado in giardino no io ho bisogno di cazzo stronti guarda puoi prendere anche la tua arma jambu se non eri soddisfatto ok ok ecco la bellissima arma fra ti faccio la casa per te prendila tu fra vieni a prenderla vaffanculo lo prendo di sicuro uccidete sti calmi perda ok usa la Wunder io usa la Wunder dai vai tiralo si tira su dove deve no sto caricando sto caricando spara 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 no 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 eh cazzo 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 tiro su fra che sta per crepare cazzo di Wunder la carabina c'ho la carabina bombo tiralo su fra mi sto continuando a stordire con la Regan raga ma è cari io vedo sti esplosioni ma non li vedo su tutti da me su tutti da noi questa stanza è maledetta run run rar ma quanti sono ma sono infiniti oddio ma quanti sono aiuto aspetta 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 cosa no cosa fra l'hai visto fra l'hai visto ragazzi non vi preoccupate ci penso io ma sto carini di merda ma li figli di putta ragazzi cazzo cazzo io non ce l'avevo già comunque aiutatemi con la FN aiutatemi Oh, cazzo, dove è il zombie? Grande fra Fra mi salva il culo Io vado a prendere il jug Ma sai come ha fatto ad essere rianimato? Eh, è morto Ah ragazzi, 30.000 non ci vedremo mai Cosa? E respawno ancora Ah beh, bene, bene così Vuol dire che si muove completamente e respawno Devo andare a prendere il jug Ok, no, accumulo gli zombie prima Accumulo gli zombie riuscito con la Wunder Merda, mi ha bloccato Ecco, vaffanculo Tirate granate magiche Deve tira granate, perchè le granate Spassavano i culi Oh, cazzo, non sono tirato addosso Ci, ci, ci Grande fra, grande fra, grande fra Sto recuperando le volte a terra con zombie Dove andare a prendere Il jug, cazzo Vado a prendere il jug Chi viene com'è dal jug? No, penso che è meglio Vieni su, ci sono io, zombie Vieni su, diceva È sicuro, diceva Sono morto sulle scale Ci stanno spasciando il culo, ragazzi No, io qui son morto adesso Basta, non ce la farete mai Tirarmi su Ci penso io Ma ci pensa Ci pensa fra Si, beh È utilissimo Io vi ricordo C'è un bombone a muro Dopo magari lo chiameremo tanto Poi io in altra volta a te La cosi mi dai gli punti per il jug Beh, adesso io lo compro Bon, adesso basta andare a terra No, dove la cassa? È sparita, non so dove si sia sponata No, qui non c'è Basta guardare un po' nelle stanze Aprite qua Aprite qua Vedo un bagliore No, io sono senza Vedo un bagliore, ragazzi, qua Dove fra? Cosa? Aspetta Let's fry some zombies cost 1000 Oh, San 저 Dicema che lezione brutta Oh, oh, oh Infidini colpi e veramente Casarola Mi piace che devi caricare oramendicati Cosco ho, hop, 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 hop Stape a Verbo Scampo che adesso io uso la Tuller Con punti doppi Facciutti Vai da fra, vai da fra Eh, ragazzi ciao ragazzi sono uscito anch'io bebe vieni ad animarmi fra vengo io fra vengo io si è proprio passato il gioco in cui a me non rianimate è morto anche jambu pronto fra morti tutti morti tutti come fa tenere a te la gioco di merda come va che va rianimami i zombie vabbè io avevo sparato eh io avevo sparato cioè li ho uccisi tutti li ho uccisi tutti eppure son morto non è possibile ma non importa noi ci riproveremo vero che mappa di merda ragazzi ma cosa era fuori come si fa ad andare lì dobbiamo scoprire come andare lì assolutamente non partite subito perchè c'è sempre Fidelis si si ho visto ah perchè dobbiamo fare ancora sta mappa di merda è chiaro dobbiamo riprovarci deve dai poi rifacciamo l'altra e di altra sai qual'intento quale intendo tu no ma jambu si e anche fra quindi dopo faremo un'altra non dovevamo fare con tu sai ah beh ah giusto eh beh beh dopo vediamo dopo vediamo non importa andiamo così intanto non spoileriamo niente eh non lo è giusto non spoilerato niente allora secondo me ci vuole una sorta di strategia si è esatto sono cazzotti zombie io punterò il round 20 ogni volta che lo dico non lo raggiungiamo mai ma stavolta ce la faremo maxammo meno male ne avevo bisogno no non ha senso i round si fanno all'esterno nel senso due persone guardano le entrate da dove spawnano qui sotto nel giardine e uno guarda la porta di entrata piccolina perchè sennò uno ah dobbiamo camperarci secondo me si bisogna entrando in casa solo in estremo si 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 no in effetti quando si è in casa si è morti è impossibile sopravvivere non si può girare non si può far nulla dopo ci mettiamo qua a girare come dei disperati madonna ancora i drogati in cerca di marijuana ancora maxammo dei ciazzi diciamo dei ciazza dei ciazza degli albanesi questa è la macchina di ciazza dove dorme e tra l'altro la casa è sempre lì ciazza dorme in questa casa non apriamo subito se guardate dentro se facciamo una bella pippa sono anche i giornali che lui compra repubblica albanese no col psm copre col psm ciazzorrono cosi sono dei o il the game machine donna qui è sono già cazzotti saranno anche le riviste di playboy playboy con le modelle albanesi io aprirei tirate granate tirate granate tirate granate che gioco di merda zombie di merda la granata ha tirato lascia stare no no lascia stare lascia stare e lui salvare situazione ma come cazzo ha fatto a rimanere solo lui no veramente lascia stare no perché raga aprite vai subito alla casa si 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 apro io apro io ok ok la seconda apri ok allora io apro inizio a aprire sopra così abbiamo già ecco basta che fate cassa veloci e venite qua uccideli schialarmi arriviamo arriviamo ok scimmie grazie donna tu non mi parla vivi via 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 fuori ok adesso la prendo comodo via 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 jaambo via? ti copro ciao debb debbao oggi ford me prendo il tom no 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 ma che cazzo dai vai vai devi buon buon apri ass.: bpsh è buona buona è buona è quella qualcuno che ci dia la mano è un attimo stiamo arrivando ok fra bene 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 io le scimmie ricordatemelo ricordatemelo con le scimmie e poi me lo dimentico c'è i cani io camperiamo sulle scale tanto è chiuso stiamo lì camperati non ci posso buttare giù se siamo tutti sulle scale è una buona idea è una buona idea e gli altri non ci si sono un'opera idea ma siamo soli dei zombie dove siete tu hai quell'arma al prossimo posto lola mi mette lancia le scimmie non so servono, fanno musica ce l'hanno tutti loro poverina aspetta stai qua jambo loro non sono voluti venire rallegra la situazione ne tiro una adesso di rimbalzo jambo c'è un granato a casa guarda che bella la scimmia farò come un pazzo io a casa ciao jambo stanno andando tutti a loro si si beh va bene ho un cane super saian intanto chat gioca crisis ha due giochi aperti ah bene non prendete questa ricerca della serie gioco di squadra con vinto praticamente ho consumato mille caricatori io non ho ancora capito a cosa serve il jug come si apre quella porta qua dove va la cassa eh appunto perché se c'era qua la cassa vuol dire che si può andare di là in qualche modo e anche là giù vedo una porta e un'arma muro anche là cazzo cioè c'è anche un'arma muro infatti la cassa è di qua la cassa è di qua come cazzo? Ari mettimi uno scotch da pacchi sugli occhi che stasera fa cagare la mappa la cassa è fuori ci deve essere un modo per uscire non so adesso come però si può uscire da qui io non so se è una bella oppure no eh però cazzo laggiù vedo un'arma muro vedo la porta del negozio lì no del bar vado ad aprire una porta io mi sono fatto la cassa vado ad aprire una porta raga ragazzi mi sono fatto la cassa lol lui panca mi fa cagare apriamo dal jug vado ad aprire si 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 non scappare che devi aprire una porta anche te non ci penso neanche dai hai 3000 punti apri così ah ok io apro quella per elettricità jambu tu quella per il jug si jambu scusa bene bene fatto 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 abbiamo già fatto abbiamo già fatto ok non ti rivolgere mai più così ah hai le scimmie si ho le scimmie però non l'avrei tirata in tempo se non ci fosse stato Debe anche se no l'ho tirata Debe dietro quindi vi prendo una cosa che vi farà piacere si ma che cazzo è successo dietro 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 che cazzo ecco bene bombone Debe come cazzo hai fatto bene ma cosa cazzo è successo? rianima zombie che tirano una scimmia rianima zombie che tirano una scimmia no ma è tutto lo strontrollo rianima zombie che tirano una scimmia tiro una scimmia tiro una scimmia scappati scappati raga 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 ma che cazzo fate? ho tirato la scimmia ho tirato la scimmia tiragli lo tirato l'ho tirato adesso lo tiro su ma perché? oh maledizione scappati arrivano dal tetto Debe Debe ma cazzo ma piovono zombie ma cazzo compro un giag fatto ho comprato il giag scimmia scimmia no no è tutto questo controllo ho il giag oh si lasciamo a fermi ok no no dovrebbero essere gli ultimi anche bene a posto dove è già il giag oh cazzo sono rimasto un quarto qua ok ok andate prendetelo prendetelo tutti fuori da sta casa maledetta si tutti fuori tutti fuori io campero al paga punch oh dio potremmo anche camperare qui al paga punch non è un brutto posto no 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 fatti su tutti su al paga punch no tutti no 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 tutti sono giù dove su dove su dove su andati via ok Debe arriva dietro anche cazzo no pessimo posto arrivano anche da quella specie di quadrato sul tetto aiuto pure perchè sei qui perchè sei qui perchè sei qui ciao no era una pessima idea lo avvengo si tira una scimmia e ce ne andiamo si ma andate a fare il culo ma avevi il giag avevate il giag voi due no ah ok lui si copri Debe che è possibile andiamo ce ne vedete cosa compro cosa compro ho finito i colpi dobbiamo attarcere tiro una scimmia pronti e ma poi dopo ne ho solo una la tiro io non ho più colpi provate ecco che sfondate sfondate sfondamento devo farmi cassa sapete cosa vi sfonderei sapete perché deve con un pugno di ferro e della ghiaia lo sapete la cassa la cassa la cassa abbassati abbassati la prendi subito fufufufu ma che cura di merda ma che coda di guiderwaffe e poi erida eh 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 bene bene ho le armi raga però i 30.000 punti poi ce li stondiamo eh si mi sa anche a me ma i round 20 forse ce la facciamo dai ma aspetta io l'ho detto che arrivavamo al 20 la partita prima vero? hai ragione ok porto sfiga esatto bene non devo parlare tu ve lo che lo dici ora ora che abbiamo tutto e che siamo con le armi sì beh forse ce la facciamo siamo partiti bene io mi sto capperando qua in un angolo non so se è una buona idea oppure no se ci fosse il chat io saprei già la risposta stai zitto stai zitto stai zitto tio merda madonna che casino ma poi sti zomni sono andicappati come faccio a fare la cassa fra? vai là ai salti io ho saltato fate come volete poi mi sono abbassato ecco vedi è buggata amo tirate scimmie tirate scimmie tirate scimmie se volete se volete solo uno ce l'ha e beh per i fili raccoppiamo e mi davate il tempo di ricaricare il problema non è finita perché hai parlato adesso è finita fra ma qua c'è una bomba raga sì sì se la prendi i 2.000 è bombone grazie a tutti